Un saluto a tutti quanti. Questo video è una risposta ai tanti propagandisti del globo che mi chiedono di mostrare una fotografia del bordo della terra piatta. Per le dozzine dei fanatici amanti della palla che hanno molteplici account fasulli e che ripetono quotidianamente questo mantra, la vostra richiesta è ridicola e forse sapete già questo, giusto? Probabilmente è il motivo per cui continuate a chiedere questo. È curioso che mi abbiate chiesto di fare una fotografia proprio un'ora fa. In questo video vado a dimostrare che i viaggi indipendenti non sono permessi a causa del sistema del trattato antartico. Solo questo fatto fa sì che ogni persona pensante inizia a porsi delle domande sul nostro modello ufficiale perché qualcosa di enorme ci viene nascosto a noi plebei e non sto parlando dei pinguini. Per molti terrapianisti, basandoci sulle informazioni che abbiamo raccolto, l'Antartide costituisce l'anello esterno del mondo conosciuto. In altre parole l'Antartide è il litorale di tutti gli oceani del mondo. Come l'anello di un magnete, il nord costituisce il centro della nostra terra piana e il sud è in qualsiasi direzione che sia lontana dal nord che sta al centro. E prima di ricevere decine di commenti che per questo magnete è impossibile, vi mostro il cerchio magnetico. Vedete che il sud si trova in qualsiasi direzione lontano dal centro del polo nord magnetico. Qui è dove si trova il sessantesimo parallelo su una mappa mercatore. Questo è il sessantesimo parallelo su una mappa di terra piana o mappa azimutale equidistante. Sembra che l'Antartide costituisca la costa circolare del mondo conosciuto. Quindi chiedermi di scattare una fotografia del probabile bordo della terra non richiede solo di viaggiare sotto il sessantesimo parallelo sud, rappresentato dal cerchio, ma di attraversare anche tutta l'ampiezza dell'Antartide. Secondo i numeri ufficiali l'Antartide ha un diametro di circa 5.400 chilometri, il che significa che il nostro viaggio, un lungo viaggio su una nave sotto il sessantesimo parallelo sud, più un minimo di 11.000 chilometri per il viaggio di andata e ritorno attraverso l'Antartide. Se assumiamo che il modello ufficiale sia corretto, forse potremmo volare verso l'area di uno dei poli cerimoniali, ma questo ci lascerebbe comunque una camminata di 5.000 chilometri. E in più non sappiamo se il viaggio in aereo interferisce con i nostri risultati. Fintanto il pilota deve seguire la rotta designata decisa dal sistema del Trattato Antartico, nessuno sa veramente se la direzione è giusta. Fintanto non arriviamo là. Per fare in modo di essere completamente fiduciosi dobbiamo veramente testare il terreno ed avere il controllo del nostro percorso per verificare la rotta diretta verso sud, opposta al nord magnetico del polo. Ora che l'Antartide sia un piccolo continente attivo all'anello esterno, o che l'Antartide sia in realtà il litorale del mondo conosciuto, io non so la risposta. I terrapianisti non hanno un budget per spendere miliardi di dollari e assumere centinaia di cartografi e flotte di navi e aerei per mappare l'intero mondo, ma se anche i terrapianisti avessero i soldi, continueremo ad avere il problema dell'Antartide che è il fulcro di questo video. Allora, qual è il problema dell'Antartide? È un fatto. I viaggi indipendenti non sono permessi sotto il sessantesimo parallelo sud. In qualsiasi maniera è determinare se l'Antartide è un confine del litorale che circoscrive il mondo conosciuto o se l'Antartide è semplicemente un continente, magari vicino alla verità, ma sicuramente il litorale degli oceani della Terra. Per tutto quello che sappiamo, l'Antartide potrebbe essere un piano infinito, inabitabile dopo certe distanze ed ancora una volta noi non lo sappiamo. Ma, come voglio descrivere in questo video, ho il sospetto che l'Antartide sia il litorale che circoscrive il mondo conosciuto a causa delle incredibili restrizioni che hanno posto sui viaggi. Escludendo un paio di fatti discutibili, la mancanza di viaggi nord-sud o della circunnavigazione provano questo. Ma se non ci è concesso dai nostri governi di fare viaggi indipendenti sotto il sessantesimo parallelo sud o di attraversare l'Antartide per 11.000 km, allora non posso scattare alcuna fotografia del bordo teorico della cupola o delle altre terre oltre il polo sud, qualsiasi caso possa essere. Ma forse non avete afferrato abbastanza quanto è grande l'area vietata dal sistema del Trattato Antartico. Diamo un'occhiata al presunto sessantesimo parallelo nord, perché questo può darvi l'idea della tremenda area bloccata per le restrizioni indipendenti. Questa è l'area del sessantesimo parallelo nord. Come potete vedere il sessantesimo parallelo nord include tutto il Canada del nord, l'Alaska, molta parte della Russia, incluso San Pietroburgo e altre importanti città, Finlandia, Svetlia, Norvegia, Islandia, Groenlandia, è enorme. Ora per quale motivo nel mondo è bloccata un'area così grande a sud? Pensate veramente che sia a causa dei pinguini? Pensate che la propaganda per i bambini di HappyFit è vera? Il Trattato Antartico è stato messo in atto nel 1959 ed è in vigore da allora. Pensateci. Nessuna nazione aveva qualche presunta preoccupazione riguardo all'ambiente in quel tempo. Uno dei fatti più interessanti è che anche l'Unione Sovietica ha ratificato il Trattato e l'ha fatto fin dall'inizio, il primo dicembre 1959. Pensate veramente che i sovietici erano seriamente preoccupati per i pinguini del fragile ambiente antartico? In altre parole, l'Unione Sovietica e il resto delle nazioni più importanti del mondo sono rimasti partner in generale per accordarsi sull'Antartide, anziché sulla presunta e farsa corsa per lo spazio, sulla crisi di Cuba per i misti del 62, più i falsi allunaggi, più la guerra fredda, la guerra del Vietnam, della guerra dei sei giorni, della guerra Russia-Afghanistan e del collasso dell'Unione Sovietica, quando in quel periodo la Russia ha continuato a firmare nel 1992. Questa peculiare cooperazione è stata più importante dei conflitti internazionali? Ma ci pensate? Pensate veramente che le vaste risorse dei benefici strategici militari sono stati messi da parte per l'Antartide a causa dei pinguini? Anche la Corea del Nord ha firmato fin dal 1987. Per qualche strana ragione il Trattato Antartico è rimasto sacrosanto per circa 60 anni indipendentemente dai conflitti mondiali. Per una persona ragionevole ed obiettiva dovrebbe suonare un campanellino d'allarme d'ora in avanti. Mentre preparavo questo video ho trovato qualcosa di interessante. Fra tutte le bandiere di tutte le nazioni sulla Terra sapete dire qual è la sola nazione che mostra la mappa della sua nazione? Sì, avete indovinato solo una, l'Antartide. Sì, la nazione di cui vogliono sappiate la forma. Non vi sembra una riprogrammazione o no? Vediamo di fare chiarezza dall'inizio. Viaggiare in Antartide è più difficile che viaggiare in una base militare. Certo, la base militare può avere il negozio per i visitatori vicino all'entrata, ma se andate oltre quel negozio per visitatori o un'altra area verrete arrestati, se non peggio. Sono sicuro, ho già avuto dei difensori del globo pronti a balzare armati di varie affermazioni per contrastare la mia, ma ignoriamo il mulinare globale. Questo video è sulle prove, i fatti e su assunzioni che si basano con ragione su questo. Decidiamo di fare un viaggio teorico attraverso l'Antartide per trovare il bordo, se c'è. Non sto parlando di andare come visitatore lungo il bordo dell'Antartide o con una costosa crociera su qualche piccola isola ghiacciata sul bordo con delle piccole escursioni, se non viaggiare su uno dei diversi molti poli cerimoniali per poi tornare nuovamente indietro. Sì, questo non è strano per niente. Io posso continuare a ripeterlo perché so che riceverò dozzine di commenti che mi dicono di farmi una crociera con i miei migliori amici in Antartide. Non sto parlando di fare un viaggio su alcune località turistiche prefissate in Antartide. Sto parlando di un vero viaggio che punta direttamente a sud attraverso i 5400 chilometri dell'Antartide e di tornare indietro per determinare se l'Antartide circoscrive il mondo conosciuto o determinare se c'è una fine o una cupola o qualsiasi cosa e fare una fotografia di questo. Sto parlando di ripetere il viaggio dell'ammiraglio Byrd quando ha scoperto quell'area che era grande come gli Stati Uniti che non è mai stata vista da occhio umano dall'altra parte del polo sud piena di minerali pronti per essere estratti. Bene, iniziamo con questo viaggio teorico. Che cosa viene richiesto per la attraversare l'intera area dell'Antartide? Adesso sono negli Stati Uniti e vado ad esaminare la posizione come schiavo degli USA, ma le regole dovranno essere le stesse per tutte le 53 nazioni firmatari del Trattato Antartico e chiunque altro da quando questi paesi hanno disposto queste disposizioni forzate. Per iniziare dobbiamo comprendere che tutto quello che si trova sotto il sessantesimo parallelo sud si riferisce a essere l'area del Trattato Antartico. Cosa significa questo? Significa che non mi è permesso entrare per centinaia di chilometri verso l'Antartide che distra circa dai 600 ai 1400 chilometri senza avere un permesso per fare questo. Ora il governo degli USA ha registrato che alcuni navigatori hanno visto le catene mutuose dell'Antartide da una distanza di quasi 500 chilometri mentre navigavano. Ovviamente da 500 chilometri sarebbe impossibile su un globo a causa della curvatura che si abbassa di quasi 8 centimetri per chilometro ma il sessantesimo parallelo si trova fra i 600 e i 1400 chilometri dalla costa dell'Antartide. Anche su una terra piatta ci sarebbe un sacco di atmosfera bassa per vederci attraverso. Si tratta del fattore di estinzione atmosferica oltre all'enorme riduzione della grandezza angolare e nonostante le affermazioni ignoranti dei fanatici del globo non si può vedere attraverso tutta questa atmosfera bassa. In altre parole non posso andare in Antartide attraverso l'oceano senza prima aver ottenuto il permesso dal Dipartimento degli Stati Uniti o qualsiasi Dipartimento che controlla il vostro Paese. Fare un viaggio verso il sessantesimo parallelo non è possibile perché si è bloccati dal permesso governativo. Quindi andiamo a vedere i passi per ottenere il permesso dal Dipartimento degli Stati Uniti. Questo è il decalogo del sistema del Trattato Antartico e qui ci sono le regole delle nazioni firmatari e del Trattato. È stato sottoscritto regolarmente per tutte le regole che riguardano il Trattato Antartico senza preoccuparsi delle varie lingue. La cosa importante è che se andiamo a vedere le regole che governano le attività non governative che si trovano qui, alcune regole riguardano la protezione dell'ambiente che si trovano sempre qui. Ora come schiavo degli Stati Uniti, come dicevo, questo è il primo modulo che si deve sottoscrivere per essere approvato per andare in Antartide. Il modulo di per se stesso sembra abbastanza innocuo finché non capite esattamente cosa comporta nel processo della richiesta. In sommario, l'Antartide è trattata come una gigantesca riserva naturale, come le basi militari. Tutte le attività e i percorsi in Antartide devono essere approvati. Questa è la differenza di qualsiasi altra area nel mondo, eccetto forse alcune aree come la Corea del Nord. Quindi, quando dico che non è permesso alcun viaggio indipendente sotto il sessantesimo parallelo Sud, affermo un fatto ammesso ben registrato come legge internazionale. Il protocollo afferma, come oggetto principale, che tutte le attività devono essere pianificate e condotte sulla base di informazioni sufficienti per valutare il loro possibile impatto sull'ambiente antartico e i loro ecosistemi associati e nella valutazione dell'Antartide per condurre ricerche scientifiche. Gli organizzatori devono essere consapevoli che il protocollo ambientale richiede che le attività possano essere modificate, sospese o cancellate quando risultano o minacciano di risultare un impatto sull'ambiente dell'Antartide o dipendenti o associati con l'ecosistema. Se visitate la Russia, con un visto per la Russia per esempio, siete limitati su una particolare vicinanza di un certo percorso? Oppure per coloro che visitano l'America come turisti, siete limitati sulla città di New York? O vi è permesso girare tutta l'America? A nessuno è permesso viaggiare in Antartide. Tutte le vostre attività, i veicoli, i percorsi devono essere approvati, ma diventa ancora peggio. Ora, per tutte le persone genuine che guardano questo video, che pensano che il proposito sia di vedere il bordo, la cupola o del piano esteso oltre l'Antartide, sappiate che deve essere approvato dal Dipartimento degli USA e delle altre miriadi di agenzie. Siete pronti per dibattere sulla questione quando qualche Dipartimento di Stato Ufficiale arbitrariamente dice qualcosa come Penso che la sua spedizione sia frivola e dannosa per l'ambiente, specialmente alla luce della frivolezza della spedizione. Non credo che un qualsiasi tribunale rovesci questa decisione, specialmente quando un trattato della legge soppianta qualsiasi diritto che pensate di avere. Pertanto dobbiamo escogitare qualche spedazione fasulla che in qualche modo possa essere approvata. Diciamo che siamo ambientalisti luciferini geologi che conducono un'analisi completa sulle tracce di carbonio globale in Antartide e sulla sua flora e sulla fauna. Penso che sia plausibile e che possiamo ipoteticamente falsificare questo nel rispetto del nostro proposito, ma c'è un piccolo intoppo. Non sto dicendo che dobbiamo infrangere la legge, questo è solo teorico. Questo ci porta al prossimo punto. Le intere aree di terra sono tutte vietate per tutti i viaggiatori. Sono chiamate le aree protette speciali. È garantito in modo sufficiente che nessuno può ottenere il permesso di attraversare queste aree protette. Se i miei calcoli sono giusti, queste sono 1373 miglia quadrata che sono presumibilmente aree protette speciali. Potete vedere le mappe sul sito, ma per ora non ho il tempo a dimostrarvele tutte. Ora sono d'accordo che non è enorme per una persona sulla presunta area totale dell'Antartide, ma credo che ci sia una precisa possibilità che queste fasce di terra possono essere coordinate in questo modo per prevenire che si possa andare facilmente in Antartide. Quindi, bene, che dall'inizio la mia rotta sia più che difficile, specialmente se il percorso montagnoso è bloccato e le aree sono più grandi di quanto affermato dovuto alle distanze falsate del globo. Ma andiamo avanti, ritenendo che possiamo navigare attorno a queste speciali aree protette e proibite. Inoltre, non sono assolutamente permessi equipaggiamenti motorizzati per tutto il personale non governativo. A pagina 308 è stabilito. Non usare aerei, vascelli, piccole imbarcazioni o altri sistemi di trasporto che possano disturbare la natura, sia per mare che per terra. Mmm, questo è abbastanza duro. È molto soggettivo, o no? La stessa Antartide si suppone che abbia un diametro di 5400 km. Questo significa che non si possono avere equipaggi motorizzati per un viaggio di almeno 10.800 km. Tutto ciò è maledettamente impossibile, giusto? Specialmente se l'Antartide è più grande di quanto si afferma. E allora che ne è delle slite coi cani? Saranno sicuramente permessi? Beh, cos'è questo? Anche i cani non possono essere ammessi. Ok. Quindi il viaggio è al momento possibile solo attraverso un'enorme, lunga camminata in condizioni insane e difficili su un'altitudine estrema. In una nota a fianco l'Antartide ha una media di altitudine più alta di qualsiasi altro continente. Sono certo che questa è giusto, una coincidenza, giusto? Ma tornando al nostro folle viaggio, non dobbiamo solo camminare per almeno 10.800 km. Dipende molto da quando dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo anche essere molto leggeri camminando sul suolo in Antartide perché è proibito. Non si possono rovinare le erbette o spaventare la natura nel nostro viaggio di 10.800 km nella regione selvaggia? Sto chiedendomi se la spedizione di Lewis Clark era limitata con queste richieste. È una fortuna attraversare 10.800 km a piedi senza danneggiare piante o spaventare la natura senza equipaggiamenti motorizzati. Non sto dicendo che non possiamo trovare il modo a girare questi grossi problemi. Forse potremmo ignorare questi argomenti teorici una volta che siamo là. Ancora una volta non sto sostenendo che tutti quanti devono infrangere la legge. Sto parlando di queste regole di applicazione elencate sotto il sistema del Trattato Antartico. Pensate quanto può essere facile per qualsiasi burocrati internazionale nel momento in cui arrivi alla nostra domanda negare il permesso di fare escursioni in Antartide basandosi su una di queste impossibili scuse. Scusate, ma andreste a camminare sulle pianticelle spaventando gli uccelli almeno una volta durante il vostro viaggio di 10.800 km e il sistema del Trattato Antartico proibisce queste attività. Richiesta respinta. Per amore dell'argomento fingiamo che abbiamo trovato il modo per raggirare questo e non chiedetemi come. Il prossimo problema è come possiamo trasportare tutto il cibo e il sistema per riscaldarsi. E non pensate che il Trattato Antartico sia interessato a come teniamo il carburante. Gli stessi Stati Uniti hanno un'ampiezza di almeno 4.000 km. Pertanto immaginate la difficoltà di trasportare il cibo, scalare le altezze estreme delle misure sconosciute trasportando tutto il nostro vettovagliamento negli Stati Uniti da costa a costa e poi nuovamente di ritorno tutto a piedi senza nessuna tappa di rifornimento lungo il percorso. Ah, e non dimenticate che dobbiamo portare anche la nostra cacca. Dovete portare la vostra cacca per 10.800 km dalla camminata Antartica. Ma è ancora peggio. La vostra cacca è regolata da diverse pseudo-agenzie governative della Fondazione Nazionale di Scienze. Qui potete imparare quali propositi sono richiesti se volete disfarvi della vostra cacca, dei vostri 10.800 km di viaggio, se non volete trasportarla. Riuscite ad immaginare il vostro prossimo viaggio in Francia quando la gente vi dice Benvenuto in Francia! Ricordi che non sono ammessi veicoli, non sono ammessi animali, non si può camminare su alcuna erbetta e questo è il sacchetto per la vostra cacca. Si assicuri di riportarlo indietro una volta in pieno e se non vuole portarsi là la cacca deve avere il permesso della Fondazione Nazionale di Scienze. Buona permanenza! Ma qui c'è un ulteriore potenziale grande problema. Che succede se non c'è il bordo quando si arriva là e le condizioni peggiorano? Quanti anni di provviste può portarsi un uomo a mano slittando su un paio di sci? Che succede se l'Antaride va oltre 5.400 km? Se torni indietro come puoi dimostrare questo è i difensori del globo che ti daranno comunque del bugiardo? Qualsiasi persona ragionevole a questo punto deve ammettere che questo viaggio è impossibile, ma abbiamo un sacco di persone omologate come schiavi del sistema e qualcuno affermerà comunque in qualche modo che mento quando dico che i viaggi indipendenti in Antartide sono proibiti. Ma non abbiamo finito. Torniamo alle notizie avanzate nel modulo 4.1.3.1. Oltre alla rivelazione di altre parti del trattato, le informazioni fornite devono essere condivise con l'Agenzia della protezione ambientale degli Stati Uniti per assicurare la conformità del CFR 40 parte 8 sulla valutazione dell'impatto ambientale per le attività non governative in Antartide, così come le altre relative agenzie americane. Questo ci porta a una delle più importanti questioni che ci riguarda. Cos'è la valutazione dell'impatto ambientale? Nessuna nazione, neanche la Corea del Nord, richiede la valutazione dell'impatto ambientale prima di viaggiare attraverso il loro paese. È pazzesco! Questa è la definizione della valutazione dell'impatto ambientale nel Codice degli USA delle Regole Federali. La valutazione dell'impatto ambientale significa che la revisione ambientale richiesta dalle disposizioni di questa parte degli Allegati 1 del protocollo include le preparazioni dell'operatore e le revisioni del Governo degli USA del documento ambientale e il pubblico accesso per la circolazione e i documenti ambientali di altri gruppi e la Commissione della protezione ambientale come richiesto dall'Allegato 1 del protocollo. Bene, vediamo chi dice la Commissione per la protezione ambientale. L'articolo 8 del protocollo dice L'articolo 8 del protocollo richiede che le parti che conducono alla valutazione dell'impatto ambientale per le loro attività in Antartide provvedano tre livelli di accertamenti secondo il potenziale impatto di ogni attività. Le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale si trovano in dettaglio nell'Allegato 1 del protocollo. Se un'attività proposta viene determinata in fase preliminare di valutazione ed ha un impatto minore o transitorio, si può procedere. Se un'attività viene determinata come probabile per un impatto minore o transitorio deve essere preparata una valutazione ambientale iniziale. Se la EIE indica il potenziale di un impatto più che secondario o transitorio e se l'impatto è determinato come probabile deve essere presentata una valutazione ambientale completa. I progetti CEE sono resi disponibili al pubblico e presi in considerazione dal CEP che a sua volta consiglia l'ATCM, ossia la riunione del Consiglio del Trattato Antartico. I commenti forniti da altre parti e l'ATCM devono essere trattati in un CEE finale che viene utilizzato come base per decidere se e come l'attività viene condotta. La legge è qui, è una valutazione dell'impatto ambientale comprensibile che elimina la nostra spedizione. Questi sono i regolamenti e questo si applica su tutti i fermatari, inclusa la Corea del Nord. Qualsiasi operatore che pianifica una spedizione non governativa la quale richiede che la CEE deve presentare una bozza della CEE dal primo dicembre dell'anno precedente, dopo 15 giorni del ricevimento della bozza della CEE verrà spedita al Dipartimento di Stato che la distribuirà a tutti i gruppi del protocollo e la notrerà alla Commissione della Protezione Ambientale stabilita dal protocollo pubblicando la nota della ricevuta alla CEE con la richiesta dei commenti della CEE del Registro Federale che provvederà alle coppie per ogni persona su richiesta. La EPA accetterà i suggerimenti pubblici della CEE per un periodo di 90 giorni dopo la nota al Registro Federale. La EPA, consultandosi con altre agenzie federali interessate, valuterà la CEE per determinare se la CEE soddisfa i requisiti dell'articolo 8 dell'allegato 1 del protocollo e la provvisione di questa parte la trasmetterà suggerimenti all'operatore entro 120 giorni seguendo la pubblicazione del Registro Federale della notifica di disponibilità della CEE. Adesso sono sicuro che molti di voi probabilmente sono andati in coma leggendo questo, pertanto voglio spiegarvelo. Primo, la vostra CEE, valutazione impatto ambientale, deve passare la revisione iniziale alla EPA. Non è una cosa facile. Poi, il Dipartimento dello Stato insieme al suo ufficio per gli oceani e l'ufficio degli affari polari, l'ufficio dell'ambiente oceanico e della scienza devono esaminarlo. Quindi verrà inviato a tutti gli gruppi. Sono 100 nazioni comunque. Dopodiché il vostro accertamento deve essere approvato dalla burocrazia internazionale chiamata Commissione per la protezione dell'ambiente. E dopo la loro attenta e poco probabile approvazione, la EPA la pubblicherà sul Registro Federale degli Stati Uniti. Ora perché devono fare questo? Perché qualsiasi ipotetico gruppo privato interessato a questo punto potrebbe essere citato se procede. Una volta fatto, presumendo che non siate stati citati, ecco che la EPA, insieme a tutte le altre agenzie federali o qualsiasi diavoleria significa, la valuteranno nuovamente. Riuscite ad immaginare che quantità di lavoro legale richiede questo? Vi rendete conto di quanto può essere facile per una di queste centinaia di entità o migliaia di burocrati fermare la nostra spedizione? E nuovamente questo viene applicato per tutte le nazioni. Una persona nei commenti sul mio ultimo video in Antartida affermava che non è necessario per il Regno Unito. Bene, ha mentito. Il protocollo ambientale OD Madrid fa parte del sistema del Trattato Antartico e viene applicato a tutte le nazioni. Questo è il modulo di richiesta del Regno Unito, se siete interessati. Come spiegato sopra, per ogni persona degli Stati Uniti che vuole avere il permesso per viaggiare attraverso l'Antartida deve presentare prima la valutazione dell'impatto ambientale alla EPA. Conoscete l'amante della libertà EPA? Beware! Beware! Time is short! Eba! 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 Sapete quanto costa lo statuto della valutazione dell'impatto ambientale? Questo è molto simile. Un tipico statuto dell'impatto ambientale costa da 250.000 a 2 milioni di dollari e questo è molto più semplice dell'analisi ambientale richiesta dal Trattato Antartico. Per noi il problema più grande è che si va ad incorrere le spese per la valutazione dell'impatto ambientale prima di sapere se verrà negata, grazie a quello che qualsiasi burocrate penserà. Vedete quanto è difficoltosa questa valutazione ambientale? Chi è che può sapere dell'impatto ambientale di un'area senza mai esserci stato? E ci sono veramente poche informazioni a disposizione. Per una normale valutazione ambientale sei in grado di inviare una ditta di ingegneria sul posto per stilare la valutazione con un procuratore il quale stilerà la dichiarazione. In questo caso non si può inviare un ingegnere fino in Antartide, pertanto devono ingaggiare degli esperti antartici che sono stati nella stessa area dove avete pianificato di camminare. Quanti pensate siano questi? Dico che possiamo presumere con sicurezza che il costo per avere l'approvazione di una valutazione dell'impatto ambientale della EPA e delle agenzie internazionali costerà milioni. Ritengo senza sorpresa che nessun privato avanzerà una citazione a giudizio una volta pubblicato sul registro federale. Avete più di 2 milioni di dollari da spendere per l'approvazione di una valutazione sull'impatto ambientale e dopo che succede se l'EPA o la Commissione per la Protezione Ambientale e una delle altre agenzie dicono no? Magari non avete fornito sufficienti informazioni. Siete pronti a spendere altri 2 milioni per combattere questo in tribunale? Comunque deve ancora essere approvato il vostro proposito. Vedete il problema qui? Probabilmente dovreste spendere milioni per ottenere la dichiarazione di impatto ambientale solo più tardi e poi il Comitato Internazionale Ufficiale per la Protezione Ambientale respingerà il vostro proposito per l'Antartide. Giochereste veramente milioni in questo stupido tentativo? Per capire altro sulle procedure di accertamento ambientale con la Commissione della Protezione Ambientale potete trovarla qui. E guardate anche questo. Andiamo sull'argomento finale. Sette nazioni rivendicano i diritti territoriali di varie parti dell'Antartide. Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito. Tutti rivendicano territori in Antartide. Ho trovato interessante che la Russia non abbia mai rivendicato i diritti territoriali in Antartide. Voglio scommettere che il mio viaggio attraverso l'Antartide ha bisogno di ottenere altri permessi da altri paesi basandosi sulle rivendicazioni territoriali. Avete altri permessi o visti da altre nazioni che hanno presunti territori in Antartide? Sì. Questo non può andare a sommarsi al nostro budget già indebolito. Ora, solo per i propagandisti che affermano che non è vero, cito, il Trattato Antartico mette da parte la potenzialità di conflitto sulla sovranità sempre che nulla di ciò possa succedere mentre è in vigore il Trattato e con forza aumenterà o diminuerà le rivendicazioni territoriali. Significa che le rivendicazioni territoriali sono il jolly. Quindi, quando il prossimo stupido sostenitore chiede di fare una fotografia al bordo che dice che chiunque può andare in Antartide per vedere che è un continente indicategli quanto dannatamente è idiota e condividete questo video perché tutto quello che c'è qui è un fatto. Nella descrizione trovate tutti i link. Ovviamente tutti i tirapiedi dei ministri della verità diranno che gira e che faranno i vostri nomi ma il resto del mondo vedrà quanto bugiardi sono veramente. Qui è Tabu Cospirasi che vi saluta. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah!